L'ultima partita ufficiale della Dolomiti Bellunesi risaliva alla 22 dicembre, poi sosta natalizia, sospensiere del campionato e due partite rinviate causa focolaio Covid. Un grande rammarico in casa della formazione provinciale, che era quinta in classifica nel girone di Serie D e stava ottenendo una serie di ottimi risultati. Domani pomeriggio comunque si riparte e che ripartenza! Alle 14.30 sul sintetico di Sedico l'avversario sarà la Luparense, terza in graduatoria a quota 32 punti. 5 in più della Dolomiti, rispetto a cui però ha una gara giocata in più. Insomma subito un partitone, a cui tra l'altro farà seguito la settimana prossima la trasferta sul terreno della capolista Arzignano. Sono due le assenze pesanti nella rosa allenata dal tecnico Renato Lauria, che non potrà contare sull'attaccante Raimondi e il difensore Trevisan. Alla gara potrà assistere il pubblico nel limite del 50% della capienza dell'impianto di Sedico. Gli appassionati di sicuro non mancheranno, considerando anche che il calcio regionale è ancora fermo.